eccoci ritornati senza portempo in mezzo siamo ritornati l'anno successivo con un gruppo di studenti che poi hanno fatto la loro tesi di laurea sulla tavola di giogurta su tutte le varie possibilità dal punto di vista ambientale eccetera abbiamo trovato un tempo infernale abbiamo trovato la neve abbiamo trovato la pioggia la nebbia abbiamo sofferto un freddo cane perché naturalmente non eravamo attrezzati conoscendo il nord africa stavamo andando verso il deserto del sahara chi pensava che avremmo trovato quelle condizioni quindi non avevamo delle giacche sufficientemente pesanti e non abbiamo potuto continuare a lavorare alla subità della tavola il nostro programma sarebbe stato quello di cercare le famose le famose cisterne sotterranee naturalmente ciò non è stato possibile e quindi abbiamo rivolto la nostra attenzione a ciò che stava sotto sotto la tavola eccola qua la nostra montagna è circondata da varie strutture anche queste di un certo anzi di un grande interesse direi che addirittura abbiamo avuto anche un discreto colpo di fortuna perché abbiamo trovato delle cose molto 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 più antiche di quello che era diciamo le strutture romane e medievali numidiche descritte appunto da sallustio anzi abbiamo avuto una certa fortuna queste qui sono gli insegnamenti alla base della della tavola di giogurta che avevamo guardato anche la volta scorsa ma senza dargli un grande importanza ci sembravano sostanzialmente dei blocchi dei blocchi caduti dall'alto semplicemente e qui abbiamo avuto appunto un colpo di fortuna perché uno della nostra spedizione che non dirò chi naturalmente è stato non ridete la verità è stato colto da un improvviso bisogno bisogno corporale e quindi fatto così col ditino si è allontanato per cercare un luogo riparato tornato dopo qualche minuto tutto bello felice felice e soddisfatto dicendo che fortuna che fortuna perché tanto pioveva veniva giù un'acqua tremenda o guardate pensa questi pastori sono così previdenti che hanno fatto anche dei gabinetti apposta dove uno si può andare fare i suoi bisogni senza senza bagnarsi siamo rimasti un po così però guardate solo dietro sono molto interessanti andateli a vedere noi siamo andati siamo andati e abbiamo trovato abbiamo trovato questa questa roba qua questa questa roba qua è un dolben è un blocco di pietra di parecchie tonnellate di peso come vedete posto ad arte sopra dei sostegni dei sostegni di pietra intorno a questi blocchi c'è un cerchio di pietre anche esse megalitiche che ne ne indica proprio chiaramente l'origine come luogo luogo probabilmente di di culto di questi dolmen ce ne sono parecchi questo è un altro questo non so se sia quello che è indicato il nostro il nostro collega però certamente è un luogo che forse è stato anche chiuso rinforzato lateralmente in epoca successiva magari non proprio per quella funzione specifica lì ma magari per offrire ricovero riparo ai pastori agli agricoltori durante la pioggia durante la notte eccetera queste strutture sono dolme l'abbiamo detto e questo è probabilmente il più grande di tutti questo pietrone che voi vedete qua su in cima questo pietrone è lungo circa sei metri per sei spesso spesso uno è un blocco del peso di circa 70 tonnellate stimato quindi è un oggetto che richiedeva una notevole fatica e qui entriamo nel campo dell'archeologia sperimentale come si può sapere quanto come si fa a costruire questi oggetti ora non parliamo delle piramidi naturalmente lì ci avevano migliaia di schiavi i francesi sono molto avanti in questo campo hanno fatto proprio degli esperimenti hanno loro prendono hanno preso 100 studenti 100 studenti gli hanno detto dovete spostare questo blocco hanno provato varie tecniche la tecnica che sembra essere la più efficace la più efficiente consiste nell'avvolgere una corda attorno al blocco la metà della manodopera 50 studenti tirano tirano la corda in maniera tale che il blocco cominci a ruotare l'altra metà lo spingono in maniera tale che questa rotazione lo faccia avanzare nella direzione della direzione voluta poi per sapere più o meno quanti ce ne volevano hanno diminuito il numero degli studenti hanno frustato di più quegli altri e hanno stabilito che per muovere un blocco di una decina di tonnellate ci vogliono un 20 30 studenti quindi facendo i debiti i debiti paragoni un blocco di 70 tonnellate di queste dimensioni qua deve avere richiesto alcune centinaia di persone che lo spingevano perché costruivano queste cose il megalitismo cioè quella periodo preistorico caratterizzato dalla costruzione di edifici con blocchi di grandi dimensioni nasce con l'inizio dell'agricoltura nasce con il neolitico perché nasce con il neolitico perché lo sviluppo delle tecniche agricole ha permesso alle comunità di avere di crescere di numero e quindi avere a disposizione una forza lavoro una mano d'opera tale da poter fare delle strutture di grandi dimensioni finché i cacciatori paleolitici si raggruppavano in clan in clan estesi ma insomma di a pochi numeri familiari non superavano le 70 unità quindi avere tanti maschioni forti a disponibili non era certo possibile anche perché poi il cacciatore raccoglitore non aveva necessità di fare delle strutture cacciatore raccoglitore era nobade quando aveva esaurito di serbe una certa zona si spostava in un'altra prendeva un sasso lo rompeva e con quello creava i suoi strumenti invece con il neolitico con la rivoluzione agricola con l'agricoltura è nata la proprietà è nata con l'agricoltura la necessità di essere proprietari del proprio campo di essere proprietari delle propri strumenti di lavoro fossero di pietra o non di pietra falcetti aratri eccetera e quindi questo aumento di popolazione si è tradotto anche in una stratificazione sociale chi si è stratificato della pratica agricola vera e propria e chi si è stratificato della costruzione degli attrezzi chi si è specializzato nella difesa sono nati i soldati sono nati poi i comandanti quelli che non facevano niente però erano più furbi eccetera eccetera soprattutto la società agricola aveva dei momenti di pausa c'erano dei momenti in cui tutta la comunità era occupata a raccogliere i frutti altri in cui tutta la società era occupata a seminare tutto il gruppo umano altri momenti in cui non aveva niente da fare perché era inverno non c'era da raccogliere nulla allora aveva della mano d'opera in eccesso questa mano d'opera veniva occupata in quelli che oggi sarebbero chiamati i lavori socialmente utili cioè venivano messi a costruire delle strutture pubbliche quindi venivano messi a scavare degli acquedotti eccetera eccetera quindi cominciano a crearsi queste grandi società organizzate cominciano almeno 5 mila anni prima di di Cristo il megalitismo va dai 5.000 ai 3.000 anni avanti Cristo e poi dopo si sposta in nord Europa con Stonehenge che è molto più recente quindi cosa vuol dire che in quest'area c'era una società agricola organizzata che creava queste strutture probabilmente con funzione sacrale molto probabilmente erano dei luoghi di sepoltura il morto veniva messo sopra la tavola o forse sotto sopra venivano accesi dei fuochi veniva messo delle bacinelle con dell'olio per creare una certa scenografia forse era proprio semplicemente un luogo di culto dove venivano fatte delle pratiche religiose le pratiche religiose sono sempre state importanti per coordinare il lavoro di un gruppo umano gli uomini lavorano più volentieri se c'è uno stregone che gli dice che il dio gli ha detto di fare quella cosa lì perché permette loro di cooperare di collaborare più facilmente quindi queste strutture indicano la presenza dell'agricoltura questo è molto importante perché in nord Africa strutture simili non ce ne sono c'è un dolmen solo vicino Gafsa c'è un parco naturale apposta per lui perché in questo luogo è stata riconosciuta una particolare cultura neolitica che viene chiamato capsiano che è l'unica indicazione della cultura neolitica quindi dell'agricoltura in nord Africa l'agricoltura è partita dalla mezzaluna fertile e poi è passata in Turchia in Grecia dalla Grecia è andata verso l'Italia meridionale poi è passata nella società del nord Europa con lo sviluppo della pastorizia eccetera ed è arrivata sostanzialmente in nord Europa due o tre mila anni avanti Cristo Stonehenge è relativamente recente in confronto a questa roba qua quindi si tratta di qualche cosa che prima non era conosciuto e che noi abbiamo trovato abbiamo studiato abbiamo rilevato queste strutture tondeggianti eccole qua potrebbero essere delle basi di capanna ci sono degli esempi nel neolitico di strutture come questa vedete come è molto ben pavimentata con delle pietre piatte potrebbero essere ci hanno suggerito anche delle aie per la battitura del grano cioè il grano veniva falciato raccolto in covoni battuto all'interno di queste aie in maniera tale che si staccassero i grani che venivano poi raccolti e poi naturalmente utilizzati dalla società quindi abbiamo iniziato a fare un rilevamento sistematico sistematico di queste aree e abbiamo visto che c'è una intorno alla tavola di Gioculta c'è tutta una serie di insediamenti abbiamo qua queste capanne neolitiche abbiamo i dolmen abbiamo delle altre strutture strane che sono delle cose tipo menhir delle pietroni messi nel suolo d'accordo e abbiamo trovato anche delle altre cose ancora più interessanti perché abbiamo trovato quello che con molta probabilmente molta probabilità era un osservatorio astronomico voi sapete Stonehenge è un osservatorio le pietre sono messe per segnare determinati allineamenti vedere il sorgere delle stelle e quindi sapere le stagioni eccetera notte qui sono le capanne che avevamo detto o forse le aie dove stavano l'esercito di Giugurta accampato abbiamo ipotizzato che queste capanne fossero le abitazioni ma non si sa però comunque 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 abbiamo censito quasi 50 capanne 48 se ogni capanna era ogni aia va bene era a servizio di 40 persone che ci vivessero dentro o le usassero per la produzione di grano quindi una famiglia allargata potremmo stimare una popolazione di 2000 persone quindi una popolazione molto numerosa perché sotto la tavola perché la tavola è un monolite è molto affascinante visibile da lontano quindi è un luogo di raccolta oltre che essere un luogo che ha una certo fascino che certamente sulle popolazioni primitive ma anche su di noi come vedete esercita un certo potere di attrazione e questo qui è un altro dolbe vedete con il cerchio il cerchio di pietre delle megalitiche intorno questo sapete il professore ferrini quando era più giovane o questa è una cosa simpatica questa che abbiamo trovato qua è una certamente senza alcun dubbio senza alcun dubbio questa è una vasca una vasca sacrificale che sacrificassero esseri umani o semplicemente che sacrificassero degli animali è molto evidente che qua qua abbiamo il canaletto di scolo per la raccolta del sangue per la raccolta del liquido d'accordo eccolo qua il canaletto di scolo questa è una cosa molto molto importante perché nella nelle culture antiche soprattutto in nord d'africa pensate alla zona di petra dove abbiamo il luogo dei sacrifici in cima a questa struttura monumentale si passa dal sacrificio di sangue dal sacrificio umano o dal sacrificio animale si passa al sacrificio del prodotto della terra cioè si passa dal sangue dell'uomo alla spremitura dell'uva l'uva da sempre pensate alla storia di gesù cristo è stato il simbolo il simbolo del sangue quindi qua può darsi che avessero fatto dei sacrifici ma può anche darsi che avessero spremuto dell'uva l'uva certamente c'era in queste zone l'uva selvatica è almeno almeno 7 8 mila anni e quindi può darsi che spremessero ricavassero del vino che aveva la funzione sacrificale al posto del del sangue questa è un'altra vasca sempre scavata in un blocco di calcare in un molitico questo è più chiaramente adibita alla raccolta del di un liquido quindi molto più probabilmente legata alla alla fermentazione fermentazione del vino della birra fate quel che vi pare ma la fermentazione tra l'altro la fermentazione ha avuto un ruolo importantissimo nello sviluppo delle delle comunità umane agricole quando la comunità raggiunge una certa dimensione cominciano a scarseggiare le acque di qualità le acque potabili le acque sicure e quindi l'ambiente diventa inquinato si comincia a raccogliere l'acqua che diventa marcescente sviluppa dei fenomeni delle comunità batteriche probabilmente patogene eccetera la fermentazione cioè l'aggiunta di cereali nel caso della birra e quindi tutta l'attività microbica messa in opera dai fermenti consente di abbassare il tasso il tenore dei batteri patogeni e quindi di rendere potabili delle acque che prima non lo erano oltre a fornire chiaramente un nutrimento che è l'alcol una parte anche proteica perché i batteri stessi hanno una una loro contenuto proteico questo chiaramente è un un torchio un torchio fatto per la spremitura spremitura dell'uva o del o delle olive chiaramente no che è questo punto siamo già avanti perché una struttura genere implica che deve essere rivestito di legno quindi pigiato in qualche maniera e poi attraverso questo a questo sgocciolatoio per dire avanti quindi qui abbiamo trovato una civiltà un insediamento agricolo estremamente complesso probabilmente anche sviluppato nei secoli dei millenni dal dolmen che sia che è chiaramente neolitico megalitico a queste strutture che sono certamente più avanzate possono arrivare anche in epoca in epoca punica e qui abbiamo trovato un'altra cosa strana in cima in cima a una collina in un luogo in un luogo elevato c'è questa cosa strana questa cosa strana che è chiaramente in una posizione dominante questa cosa è una cantina sociale scavata nella roccia queste sono vasche di raccolta dell'uva eccola qua qua dentro veniva posta l'uva veniva schiacciata con i piedi oppure veniva inserito in questa tacca una leva che metteva di schiacciare l'uva l'uva andava in questa vasca in questa vasca veniva la fermentazione qui vedete c'è un un incisione quindi evidentemente per ospitare una copertura veniva lasciata fermentare e dalla veniva posta qui questa probabilmente era uno una strettoia bene che veniva schiacciata anch'essa tramite leve impergnate su quest'altra tacca da qui scendeva qua sotto qua sotto c'era e questa qui era il torchio abbiamo detto no fatto così l'uva scolava veniva raccolta da questa canaletta probabilmente ora i sedimenti sono aumentati di livello ma sotto c'è ancora un altro metro di questo blocco questo blocco è un blocco chiaramente enorme un unico monolito lavorato chiaramente per la produzione di vino non può essere certamente produzione di birra e questo comincia ad avere un significato importante certamente rituale perché perché questo oggetto è messo alla sommità di un cucciolo quindi ci dovevano portare l'uva apposta fare lì la cerimonia di fermentazione e quindi in qualche maniera dare luogo ad un certo culto ricordate che culti di bacco i culti baccanici appunto sono estremamente diffusi in epoca in epoca antica accanto abbiamo trovato un'altra un'altra cosa questo che vedete è un osservatorio astronomico ci abbiamo scritto tempio ma chiaramente non era un tempio non aveva delle 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 coperture era un osservatorio fatto da una serie di di dolmen bene vedete vedete qua asterix che si porta il dolmen sulla schiena i dolmen facevano sempre parte della cultura megalitica ed erano e destinati all'osservazione all'osservazione delle stelle all'osservazione astronomica le pleiadi erano alcune delle delle costellazioni più osservate si mettevano due pietroni un accanto all'altro quindi quando il sole nasceva a lungo la congiungente delle due pietre si sapeva che era una certa stagione quindi era il momento per esempio di seminare il momento di raccogliere riguarda che la fase agricola più importante è quella della luna con la luna si sa che con la luna partoriscono le donne quando si fece si imbottiglia il vino a luna nuova diventa sfumeggiante se invece lo vuoi conservare deve imbottigliarlo a luna a luna calante eccetera eccetera quindi questo è un altro osservatorio quindi qua certamente venivano poste delle mire questa forse qua c'era una una tavola una tavola messa qui per fare sì che l'attenzione potesse essere rivolta solo in quella determinata mire ed è certamente è certamente adibito all'osservazione dell'orizzonte quindi si tratta di un osservatorio di tipo astronomico a cosa servono gli osservatori di tipo astronomico abbiamo detto che servono appunto a dare la direzione e quindi a definire definire la stagione quando è il momento quando è la terza luna dopo il sostizio d'inverno e quindi quando è il momento di seminare sostanzialmente era il calendario di frate indovino del tempo quindi c'era qualcuno chiamatelo sciamano chiamatelo sacerdote scienziato naturalmente perché era la scienza dell'epoca che dava le indicazioni alla comunità la comunità che aveva il sacerdote più bravo o rispetto a quella che magari non lo aveva aveva dei vantaggi e quindi poteva andare avanti più più agevolmente beh queste sono naturalmente tutte ipotesi e abbiamo trovato anche degli altri degli altri elementi di estremo di estremo interesse qui siamo su un'altra altura poco lontana da quel da quel tempio osservatorio con tutti i dolmeni infissi abbiamo trovato parecchie di queste strane strane pietre noi abbiamo interpretato come essere dei puntatori astronomici cioè abbiamo ipotizzato che qua venisse messa vedete una una mira un mirino e che su quest'altro lato venissero piantate una specie di cavalletto con un cursore orizzontale in maniera tale da poter avere anche un angolo azimutale quindi la stella che sorgeva qui o qui o qui potesse essere seguita si tratta quindi di una vera e propria ormai cultura tecnica tecnologica organizzata per l'osservazione delle stelle quando è che 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 si comincia a contare si comincia a contare le lune cominciando dal sostizio d'inverno cioè quando il il sole nasce nel nel punto più più lontano si ferma lì e poi torna indietro noi ci siamo siamo andati lì apposta alla fine di dicembre per vedere il sorgere del sole e abbiamo visto due mire eccole qua e vi assicuro che l'alba l'alba del 28 dicembre eravamo proprio sotto natale il sole nasce esattamente dove viene individuato dal dai puntatori quindi è evidente che quello di dall'indicazione precisa della nella piena civiltà civiltà culturale tecnologica a questo punto abbiamo fatto un'altra ipotesi che le forme di questi strumenti una mira fissa che veniva il mirino che veniva messo nel pietrone che poi ce ne fosse un altro che permetteva in questo caso la misura della dell'angolo azimutale quindi non solo si sapeva avevi gli strumenti per la misura dell'angolo azimutale ma anche quella dell'angolo trinitale quindi dell'elevazione della stella o dell'oggetto individuato sopra l'orizzonte a questo punto abbiamo pensato agli antichi dei della della fenicia che si chiamano tanit e baal tanit come vedete è questa specie è stilizzato con un triangolo con le mani alzate che ha sempre un bastone questo bastone ce l'hanno sempre i sacerdoti pensate a gandalf ma pensate a ra degli egizi del del faraone pensate al bastone degli imperatori pensate al bastone di sculapio che segna proprio la medicina quindi ecco qua la nostra stilizzazione di tanit cioè della dea della dea principale dei punici questa qui è una stelle punica vedete quale tanit con il suo bastone le tre pietre che ti indicano l'osservatorio astronomico e la luna la luna la luna sopra che sta ad indicare che proprio che ci stiamo rivolgendo ad un oggetto astronomico su e ci manca la ci manca ci manca la la mezza luna bene qui professore ferrini ha fatto una cosa che non si dovrebbe fare ha trovato il simbolo e questo è conservato presso il dipartimento di scienze nel nostro dipartimento nella nella bacheca quindi direi che in qualche maniera possiamo riferire certamente tutte queste strutture all'azione dell'uomo in un periodo molto antico in un periodo arcaico in cui non si sospettava la presenza di comunità umane così avanzate organizzate ma probabilmente noi ipotizziamo anche che tutta una serie di tradizioni religiose culturali sviluppate nell'antichità dall'epoca unica poi a cartagine poi tramandate addirittura nell'impero romano e abbia le sue radici in queste zone particolari in particolare in bulla mensa tavola di giogurta o comunque questo pietrone potesse essere descritto nell'antichità ed ecco che il nostro cantina sociale il luogo dove si fa del vino è diventato in qualche maniera luogo magico simbolo questa signora con le poppe all'aria è astarte è una è la dea origine di origine indiana che poi diventa tanit vedete ha il gonnellone ed è la dea della della luna la dea della notte la dea della fermentazione qual era l'importanza del vino era un'importanza rituale magica la birra era una necessità di fare della birra per purificare le acque ma la birra si può fare in qualunque periodo dell'anno basta un po di acqua un po di frumento l'uva è matura solo in una certa stagione solo in quella certa stagione puoi fare la vinificazione e probabilmente solo in quella stagione puoi bere questo fermentato particolarmente gradevole e afrodisiaco e vi lascerò vi lascerò un filmato con le nostre speculazioni questa volta di fantasia su quello che potrebbe essere stata la nascita della della storia del vino e di tanit per il momento vi lasciamo danno da quello che è forse una delle più antiche cantine sociali della storia